Questo video è offerto da Proprio mentre in queste ore l'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali in vista delle consultazioni in programma il prossimo 12 giugno, prosegue la campagna elettorale a Melilli, uno dei cinque comuni del Siracusano che tornano al voto a distanza di cinque anni insieme ad Avola, Cassaro, Canicattini, Bagni e Solarino. A Melilli come è noto si voterà con il sistema maggioritario dunque senza turno di ballottaggio e insieme alla nuova amministrazione comunale e al nuovo sindaco bisognerà eleggere anche 16 consiglieri comunali. Questa sera dopo l'appuntamento dei giorni scorsi a Melilli l'inaugurazione del comitato elettorale anche nella frazione di Villasmundo segno del radicamento del movimento che sostiene la ricandidatura di Peppe Carta in tutto il territorio. C'è uno slogan che ha contraddistinto l'impegno amministrativo in questi cinque anni del sindaco Carta che è quello della paridignità. La paridignità delle due frazioni di Melilli ovvero Villasmundo e Città Giardino e questo slogan, questo impegno lo ha confermato anche stasera? Sì, per noi le frazioni sono centro e il centro è frazione. Per noi non c'è differenza fra Melilli e Villasmundo, fra Villasmundo e Città Giardino, fra Città Giardino e Melilli. Il territorio è uno, Melilli è una e abbiamo dimostrato con le nostre azioni nel terzo settore, nei lavori pubblici, nelle politiche sportive che non c'è differenza fra chi vive a Melilli e chi vive nelle frazioni. È chiaro che oggi ho raccontato alcuni aspetti dei nostri cinque anni, altri li racconteremo il giorno 29, ma è chiaro che Villasmundo ha avuto grandissime opere pubbliche, due fra tutte o tre fra tutte, fra il completamento del depuratore, la realizzazione del nuovo pozzo e della stazione di sollevamento dell'acqua e della riqualificazione del centro storico e di piazza di sorgimento. Che ha detto l'opera più importante fatta dall'amministrazione Carta? È l'opera più costosa, l'opera più centrale, l'opera che prende spunto dal volere della politica villasmundese, dal volere dei consiglieri di questa frazione, dagli assessori e del Presidente del Consiglio. Noi siamo qui per continuare a fare per questa frazione, vogliamo continuare insieme con Villasmundo, ma soprattutto vogliamo andare avanti con la stessa determinazione che abbiamo dimostrato in questi anni. Villasmundo oggi ha tutto quello che gli serviva per essere una città completa e quando in una città puoi depurare le acque di scarico, puoi avere l'acqua potabile e puoi avere un centro storico curato, un arreto urbano che rappresenta la storia e la vicinanza di questa città, la cultura del lavoro, dell'accoglienza, dell'inclusione. Oggi sono contento e felice per l'accoglienza che mi è stata dimostrata in questa parte della mia città, ma soprattutto sono contento ancora che i villasmundese si sentano rappresentati da Sindaco Carta. Allora c'è un impegno stasera che ha annunciato nel corso dell'inaugurazione del comitato elettorale di Villasmundo, un impegno che vale tutto un programma da solo, nessuna discarica a Villasmundo? Noi non permetteremo, abbiamo scritto a Presidente della Regione che ci ha risposti per l'interpretazione della norma dei tre chilometri dal centro abitato, noi non permetteremo che Villasmundo ha un'altra discarica, ma soprattutto alle porte di questa città, vicino ai siti archeologici, vicino ai siti naturalistici. Villasmundo è dentro l'itinerario culturale di Merilli Terrazza degli Iblei, Belluzza e tutta la sughereta e tutta quella che rappresenta la storia e la cultura, come la storia di San Giuliano, la storia di questa città, di questo borgo. Non possiamo permettere, nel momento in cui si va verso la distruzione dei rifiuti, che vengono conservati qui. Questo non è il posto adatto, lo consiglio a chi la vuole fare, cambi territorio, noi faremo di tutto, lotteremo con tutte le leggi, le norme a disposizione e con tutti gli strumenti legali che abbiamo per combattere questo fenomeno. Vadano a sporcare altri posti. Lì siamo a sotto, coordinatrice del comitato elettorale che è stato inaugurato stasera a Villasmundo, un comitato elettorale che è la testimonianza dell'attenzione di tutto il movimento, anche e soprattutto per le frazioni, come ha anche sottolineato il sindaco nel suo intervento, per Villasmundo e per Città Giardino. La tantissima affluenza stasera all'inaugurazione del comitato è la dimostrazione che siete sulla strada giusta. Sì, per la prima volta abbiamo un grande comitato qui a Villasmundo, il che rende anche l'idea di quella che è la vicinanza di questa amministrazione a Villasmundo e non solo, ma anche in realtà tutti quelli che sono stati i miglioramenti e gli efficientamenti in questi cinque anni su questa frazione. E il fatto di avere un punto di riferimento in questo comitato dà anche un modo ai cittadini di avvicinarsi alla politica e di avere anche una sorta di fiducia per chi comunque in questi cinque anni ha fatto tanto. Di avere un luogo di incontro e di relazioni appunto con la classe politica. Un punto di riferimento dove magari venire anche a dare le loro idee politiche, le loro idee di miglioramento. E non è solo questo il comitato che abbiamo aperto qui, ma ce n'è proprio un altro anche più avanti, quello magari un po' più riservato alle persone più grandi che hanno proprio il loro punto di incontro. Quindi a riprova di quella che è la vicinanza di questa amministrazione e di quelli che saranno gli ulteriori sviluppi. Paolo Italia è il responsabile del movimento che sostiene la ricandidatura di Peppe Carta qui a Villasmundo, dove peraltro ha ricoperto anche l'incarico di delegato amministrativo. Riprende questa corsa dell'amministrazione Carta, del sindaco uscente che prova appunto a riconquistare la poltrona più alta di Melilli per il secondo mandato e lo fa con anche un bagaglio di opere importanti che sono state realizzate qui a Villasmundo. Voi siete soddisfatti, mi pare, di capire a Villasmundo per tutto quello che è stato già avviato o che è stato già completato in questi anni? Sì, sì, sono soddisfatto di più, sono super soddisfatto. A parte il fatto che il sindaco mi ha posto in sé la fiducia nei miei confronti, infatti mi ha dato la nomina per due anni, sono stato delegato amministrativo della frazione. È stato un po' pesante, sono molto sincero, perché giustamente avere un paese alle spalle con tutte le varie richieste, perché comunque è un paese, sì, ci sono le grandi opere, ma ci sono anche le piccole opere e le piccole, le piccolezze. Sinceramente sono rimasto soddisfatto per le grandi cose, l'illuminazione in tutte le varie contrade, la piazza che attualmente ci stanno lavorando, il Pozzo Nuovo, finalmente, dopo anni di promesse, come la piazza, finalmente il sindaco Giuseppe Carta e la sua amministrazione, ovviamente sono stati in grado di portare al termine tutte le promesse che hanno fatto durante tutti questi anni e finalmente io credo che per me e per tantissime persone, ecco, non è stato il solito politico che magari ci ha detto sempre, sì, sì, adesso facciamo, facciamo, ma poi non hanno fatto tantissimo. tantissimo, ecco, non voglio parlare mai delle passate legislazioni, però, ecco, qualcosina la volevo puntualizzare. E' sempre il problema delle frazioni questo, non solo quello di Villasmundo, ma di tutte le frazioni che si sentono spesse volte trascurate, ecco, in realtà, qui opere ne sono state fatte, lo ha detto anche il sindaco parlando di piazza risorgimento che è l'opera, diciamo, economicamente più impegnativa e più importante che ha realizzato l'amministrazione Carta in tutta la città di Merilli, ecco. Sì, sì, è vero, è proprio vero. Sinceramente, prima di questa amministrazione, credo come tante altre amministrazioni, tutti quanti pensavamo Villasmundo, come anche cittadini di Serie B, è brutto da dire, ma purtroppo è la verità. Eravamo considerati magari poco, con poco occhio di riguardo, ma invece Giuseppe ha stravolto tutto. Ma a Villasmundo abbiamo visto così tante opere, così comunque attenzione da parte sua, da parte di tutti i consiglieri, veramente, siamo molto soddisfatti. Io in prima persona sono super soddisfatto per tutto quello che ha fatto, ecco. L'attenzione per i giovani da parte dell'amministrazione Carta, ha tanti impegni e stasera Carta ha anche fatto riferimento a Villasmundo come la località del comune che avrà il primo asilo nido. Ma non c'è solo l'asilo nido in programma. Sì, esatto, esattamente. Finalmente nascerà a Villasmundo il primo UB giovanile. Un gruppo di giovani ha formato un'associazione, comunque con l'aiuto e l'appoggio da parte dell'amministrazione sta formando questo centro dove ci saranno tante attività al suo interno, come ci sarà una sala cinema, una sala videogiochi, poi organizzeranno anche vari tornei. Anzi, a proposito dei tornei, volevo agganciarmi che finalmente Villasmundo, lo dico questo di qua perché per i ragazzi Villasmundo è una grandissima vincita. Considero che ho 28 anni e abbiamo avuto noi sempre i campetti in cemento. Finalmente, grazie a Peppe Carta, avremo il campetto in erbetta sintetica. Sembrerà, per molti magari sembrerà una sciocchezza, ma per chi come me ci vive, considerando, ripeto, dalla nascita che sono qui a Villasmundo, avere un campetto in erbetta sintetica per noi cittadini è tanto. È ovvio che lo sport non si ferma semplicemente al calcetto, ci saranno tante attività da fare, però volevo puntualizzare sul merito a questa attività e quest'opera che dovrà fare. Grazie.